Buonasera e bentrovati a tutti e a tutti voi cari telespettatori, torna l'appuntamento con Spazio Libero, ospite di questa puntata la candidata al Consiglio regionale del Lazio in quota Fratelli d'Italia, nonché consigliere comunale di Ponte Corvo, Nadia Belli. Buonasera. Buonasera. Allora, Nadia Belli, siamo ormai alle battute finali della campagna elettorale, mancano poche ore al silenzio elettorale, le chiedo subito che campagna elettorale è stata? Guarda, è stata una campagna elettorale bella, molto bella, perché ho sentito realmente la vicinanza della gente, perché ho sentito le esigenze della gente, i problemi della gente, per cui la regione Lazio è completamente da ridisegnare. Ecco, fra i tanti temi che sono stati toccati in questa campagna elettorale ce n'è uno che a lei sta particolarmente a cuore, quello della sanità, un tema, una tematica, quella della sanità che lei vive da vicino. Le chiedo che cosa c'è da fare allora per la sanità del Lazio e in particolare per quella della provincia di Frosinone? Guarda, il problema della sanità è un problema che ha accolto molto anche il presidente Rocca, perché la mette proprio al primo posto e io faccio altrettanto, perché sono un'infermiera e quindi lavoro nella Casa della Salute a Ponte Corvo. C'è da mettere a posto la rete dell'emergenza, urgenza, c'è da mettere a posto perché l'ambulanza quando arriva, quando io chiamo l'autoambulanza perché mi sono sentita male, l'autoambulanza arriva a casa, ma non è con il medico, il medico è a bordo dell'auto che viene chiamata a sua volta dall'infermiere e devo aspettare, perché se quella macchina si trova ad Atina e io a Ponte Corvo devo aspettare la macchina che viene ad Atina. Quindi penso che non sia assolutamente giusta una rete d'emergenza in questo modo, ci vuole il medico a bordo, assolutamente. Ecco, la sanità è un tema importante sentito ovviamente da tutti i cittadini, possiamo dire che il tema della sanità sia un po' la cartina di tornasole dello stato di salute, mi passi il termine di un territorio come quello laziale o come quello della provincia di Frosinone. Allora, guarda, è sicuramente così, però c'è da dire una cosa, che nel corso degli anni abbiamo sempre dato a Roma e mai nel territorio, cioè c'è gente che per fare un esame va a Roma, allora, per esempio, noi abbiamo la natalità, la natalità è sotto zero e perché non mettere in questa zona degli ambulatori apposta per la sterilità? Perché non metterli in questa zona? Perché io devo andare a Roma? Questa è una proposta all'interno del vostro programma. Esatto, esatto. Sanità, ma non solo anche lavoro, il suo impegno, il vostro programma, quello di Fratelli d'Italia per il lavoro, per l'occupazione, per le imprese? Allora, questo è molto importante perché ho fatto un giro delle diverse aziende che stanno nella zona e alla fine ho fatto un resoconto. Ebbene, non riescono ad assumere del personale, c'è chi ha bisogno di autisti e non riesce ad assumerli perché dice che prendere la patente costa dai 7.000 euro ai 10.000 euro e quindi non riescono a far prendere la patente alle persone. E poi ci sono altre aziende che hanno lo stesso problema, hanno provato ad assumere delle persone con il reddito di cittadinanza e hanno visto che non va bene. Perché? Perché non sono imparati. Perché quando vanno in un'azienda dovrebbero aver fatto comunque del tirocinio. Bene, io approfitto di questa cosa per dire che dovremmo fare qualcosa nell'istruzione, un po' rimettere quelle vecchie scuole che facevano fare il tirocinio presso un'azienda, presso un ente, prima di uscire da scuola. Lei dice che formazione e lavoro sono due temi che debbono andare per forza di cose di pari assolutamente. Perché questa persona, per esempio, un imprenditore voleva assumere ma non è riuscito ad assumere. A parte il fatto che non vogliono rinunciare al reddito di cittadinanza ma comunque non avevano tanta voglia di imparare. Questo è un tema che voi state approfondendo, avete approfondito nel corso di questa campagna elettorale ormai agli sgoccioli. Tante le tematiche dicevamo, sanità, lavoro, anche ambiente. Fratelli d'Italia sta puntando tanto e ha puntato tanto sulle questioni ambientali che riguardano tutto il territorio della ciociaria. Beh, guarda, il territorio della ciociaria per l'ambiente è un po' particolare perché abbiamo diverse sedi, come tra l'altro abbiamo il termocombustore di San Vittore che molto probabilmente sarà ampliato, quindi andrà avanti. Però quello che dico io è che per quanto riguarda l'ambiente dovremmo innanzitutto aumentare la raccolta differenziata. Quella è la prima cosa. Per l'ambiente dobbiamo tutti quanti fare la raccolta differenziata. E poi c'è da installare nei tetti di edifici pubblici, per esempio le scuole, i pannelli fotovoltaici. Questo è un esempio. Come un esempio possono essere anche le macchine elettriche. Come un esempio possono essere gli edifici fatti tutti a geotermia. Queste sono tutte le proposte che voi avete lanciato e di cui ne avete discusso in questa lunga campagna elettorale. Tornando a ciò che aveva detto all'inizio del suo intervento, la necessità di ridisegnare la provincia di Frosinone. In che modo concretamente lei, Fratelli d'Italia, pensate di ridisegnare questo territorio provinciale? Guarda, te l'ho detto, partiamo dalla sanità. Partiamo dalla sanità e poi noi abbiamo una necessità tremenda di infrastrutture. Infrastrutture, strade, c'è la Soravezzano ancora in corso. Abbiamo bisogno di strade, ma abbiamo bisogno anche di mezzi che ci collegano a Roma. Ad esempio la TAV, l'alta velocità, sarebbe importantissima. Magari metterla anche qui a Roccasecca perché c'è la linea a Roccasecca e quindi bisognerebbe semplicemente fare una stazione che ci si ferma la TAV. Ecco, Nadia Belli, lei è una donna del territorio, anche per la sua attività di infermiera, è una donna che vive a contatto con i cittadini. Qual è l'elemento per riavvicinare, si dice sempre in questi casi, il mondo della politica alle esigenze reali del Paese, alle esigenze reali dei cittadini? Lo sai, ho trovato molto particolare una cosa che abbiamo fatto in campagna elettorale, forse perché è in inverno, quindi ci mettiamo nei locali. Nei locali però la gente non ti parla, invece devi parlare con la gente. Fuori, nella piazza, sotto casa, devi parlare con la gente. Solo questo ti aiuta a ristabilire un contatto con la gente. Noi abbiamo fatto un cerchio, tu pensa a un cerchio, e noi siamo messi tutti su questo cerchio, fitti, in modo che non facciamo passare nessuno. nessuno entra all'interno, invece no, dobbiamo far passare la gente. Ci deve entrare Maria con il problema di sanità, ci deve entrare Paolo che ha un problema di lavoro e via di seguito. Una politica che non si cali dall'alto ma che parta dal basso, insomma. E' così, è solo questo, il segreto per ristabilire un contatto con la gente che ha perso il contatto con la politica, hanno perso perché non gli abbiamo dato rispetto. Beh, bisogna dargli rispetto, è la prima cosa. Ecco, siamo giunti quasi in conclusione del nostro appuntamento. Le chiedo, a poche ore dal silenzio elettorale, perché la candidatura a presidente di Francesco Rocca è quella giusta? Perché la proposta di Fratelli d'Italia è quella giusta, secondo lei, per la Regione Lazio? Guarda, il presidente Rocca è veramente una persona eccezionale, una persona che ha fatto della sua vita un esempio per tutti. è stato il direttore per tantissimi anni, fino a poco tempo fa, della Croce Rossa italiana, è stato direttore anche all'estero, ha messo su un ospedale bellissimo, il Poliglinico Sant'Andrea di Roma, che è eccezionale. e Fratelli d'Italia raccoglie dalla gente le esigenze. È per questo che nessuno ci può battere, perché noi accogliamo quello che ci dice la gente. Bene, il nostro tempo a disposizione termina qui. Io ringrazio allora la candidata al Consiglio regionale del Lazio, in quota Fratelli d'Italia, Nadia Belli. Grazie. Ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento in compagnia dei nostri programmi. Grazie e buona serata su Teleuniverso. Grazie a tutti.